Olivetti EC121, 122 e 162 PD Le calcolatrici elettroniche da tavolo scriventi risive EC121, 122 e 162 PD vennero prodotte ad Hong Kong per la Olivetti a partire dal 1982. Utilizzavano per la prima volta un nuovo gruppo stampa della Epson a 10 cifre per i modelli EC121 PD e 122 PD o a 12 cifre per la EC162 PD con l'inchiostrazione dei numeri tramite un rullino. Questa soluzione tecnologica rese le calcolatrici estremamente sottili ma non esenti da problemi meccanici. La carrozzeria in plastica di colore nero venne disegnata da Mario Bellini e Perry Hacking e brevettata in Italia il 25 febbraio 1982. Questi tre modelli non ottennero un successo di vendite a causa della scarsa affidabilità del gruppo stampa. Il modello Olivetti EC121 PD venne anche distribuito come Antares A1100 PD e Underwood 220 PD ed il modello Olivetti EC162 PD come Antares A1200 PD e Underwood 222 PD.